Dottoressa, perché Genio d'Europa e perché questo libro vuole essere un riferimento per gli studi sul Caravaggio? Caravaggio sicuramente fu al centro di un movimento importantissimo, forse uno dei primi movimenti artistici che coinvolse tutte le nazioni d'Europa e tutti gli artisti di queste nazioni europee vennero a Roma per imparare proprio la tecnica usata da Caravaggio nel dipingere le sue opere. È un libro fondamentale proprio perché offre visioni impossibili, cioè degli ingrandimenti strepitosi fatti dalla società alta definizione, che rendono questo libro unico nel suo genere, forse il più bel libro su Caravaggio che io abbia mai visto. È veramente straordinario perché si riesce a entrare proprio nella tecnica pittorica di Caravaggio e attraverso questi ingrandimenti sensazionali riuscire a dare proprio la giusta dimensione a tutti quei particolari che lui curò con un amore particolare proprio per rendere più vivi e veri i suoi personaggi, quindi appunto i piedi sporchi, le cuffie sdrucite, le unghie ornate di nero, eccetera. Ci sono tanti particolari che non sempre riescono a essere apprezzati vedendo il dipinto nella sua interezza. Senta, Caravaggio un grande artista, questo è in dubbio, ma anche un carattere litigioso, collerico che lo porterà alla rovina. Quali sono le ragioni di questa inquietudine interiore del Caravaggio? Sicuramente va un po' calata nell'epoca, non erano tempi tranquilli, quindi lui si inserì in un contesto di una Roma piuttosto violenta e rimase preso da questi meccanismi di aggressioni, di uccisioni, di duelli, eccetera. Indubbiamente era molto predisposto, viene dalla Lombardia, nasce a Milano, Caravaggio, si trasferisce a Roma che ha circa 24-25 anni e qui appunto viene accolto, arriva ed è poverissimo, povero e affamato, quindi indubbiamente ha anche dei contatti particolari con i bassi fondi della città. E poi quando il suo genio comincia a essere apprezzato e cresce, continua a bazzicare questi ambienti e un po' come forse può essere fatto un parallelo con delle rock star del nostro tempo, questi spiriti inquieti che proprio per questo noi in qualche modo sentiamo così vicino anche a noi, proprio perché spesso viviamo queste stesse inquietudini. A proposito dei contesti anche storici che bisogna tener conto quando si parla e sinalizza un artista, 500 anni fa Lutero pubblicava le 95 tesi sulla cattedrale di Wittemberg, in che modo la pittura di Caravaggio si inserisce nella controriforma cattolica? Sì, questo è un argomento che è stato affrontato e molto discusso, è stata spesso interpretata proprio come la sua luce con cui illumina le sue scene, che è una delle caratteristiche della sua pittura, quella forse più originale. Questa lama di luce che illumina le scene da lui dipinte è stata spesso interpretata come la luce della grazia. La grazia che era, diciamo, attraverso cui noi arriviamo a Dio, è grazia che era stata negata da Lutero, cioè secondo Lutero ci doveva essere un rapporto diretto fra l'uomo e Dio che non passava necessariamente attraverso la chiesa cattolica. Quindi è una pittura, secondo questa interpretazione, anche molto politica di Caravaggio, proprio una pittura in chiave antiriformistica e soprattutto antiluterana. L'abbiamo in parte già detto all'inizio di questa conversazione, ma perché dunque la collana si chiama Visioni Impossibili? E' proprio perché contiene al suo interno queste magnifiche riproduzioni che consentono proprio di entrare dentro la pittura di Caravaggio e come essere vicino a Caravaggio mentre dipinge le sue opere e addirittura in certi casi, proprio vedendo queste pennellate, vedendo i pentimenti, i ripensamenti, gli abbozzi che lui fa, riuscire a entrare proprio nella sua testa per capire anche meglio le sue scelte. Grazie.